Ehi la ciurma, io sono Mezzetest, questo è un vloghino, un video molto rapido perché sono le 5 e mezza di notte Voi vi chiederete perché ho appena finito di assistere alla cerimonia dei Game Awards del 2016 Ne avevo fatto anche un video in contemporanea ma è uscito male perché ci sono stati problemi nella registrazione video Quindi niente, questo è un commento a caldo diciamo di quello che è appena successo Ho davanti a me la pagina Wikipedia dove sono riassunti tutti i premi che sono stati assegnati questa sera Cioè questa mattina per noi in Italia È partito alle 18 negli Stati Uniti ma erano le 3 qui in Italia E niente, partirei dalla delusione più grande Che è il gioco dell'anno Io davvero ho avuto un rage quit sentendolo perché c'erano davvero dei buoni giochi candidati C'erano candidati come potete vedere Doom, Inside, Overwatch, Titanfall 2 e Uncharted 4 E ha vinto Overwatch Cioè secondo me è una tragedia, una tragedia perché peggio di così non poteva andare È un dannatissimo MOBA Un FPS arena Della Blizzard Originalità Non lo so Non lo so Sono molto deluso Sono molto deluso perché Andato del gioco dell'anno Ha qualcosa che davvero Non mi dice nulla Non mi dice nulla Non è che è un gioco che faccia schifo Ma non merita di essere distinto dalla massa A mio parere E allo stesso modo sono scontento per il Best Game Direction Che va alla Blizzard Entertainment per Overwatch Nuovamente Best Independent Game Va a Inside E di questo sono molto contento Nonostante la sfida fosse molto accesa Perché Andiamo un attimo a vedere qua C'erano in campo Firewatch Hyper Light Drifter Inside Stardew Valley E The Witness Ed erano tutti e cinque dei bei bei giochi Dei bei bei giochi Che meritavano davvero dei riconoscimenti E ha vinto Inside Sono contento L'ho giocato Come potete sapere Ho fatto anche una recensione E sono contento di questa sua premiazione E sono contento di questa sua premiazione Best Mobile handheld game Va a Pokemon Go Direi abbastanza scontato Perché ha preso premi a Mambassa Quest'anno per quanto riguarda il settore mobile E questo dimostra che la Nintendo Se per caso si vuole mettere nel settore mobile Può farlo Sono contento che abbia cambiato Tipo di approccio Al settore mobile Rispetto a quel Oscurantismo Che aveva Qualche tempo fa Per cui non potevi neanche Scrivere la parola Pokemon O Super Mario O cose così Sul Play Store Perché ti bannavano tutto Ti bannavano Pokédex Ti bannavano qualsiasi informazione Su Pokemon O su qualsiasi cosa Che fosse della Nintendo Senza fare nulla Senza metterci nessun progetto loro sopra Loro che sono nati Come mobile Cioè nel senso che La loro grande fortuna L'hanno fatto come console portatile Per tutta la famiglia E cosa c'è di più portatile Più per tutta la famiglia Che non Lo smartphone Il tablet Sono contento che abbiano cambiato direzione E I premi lo stanno dimostrando Che È stato apprezzato in generale Best VR game Rezzi infinite Di cui assolutamente Non so nulla Non sono un esperto Di realtà virtuale Non sapevo nulla Praticamente Dei candidati E quindi Lo accetto Senza commentare Best narrative Uncharted 4 A Thief's End A Thief's End È un po' Un scioglienico Niente Non ho ancora avuto modo Di giocarlo Ma sembra davvero Un giocone Mi auguro Che sia stato Dato con senno E Dalle recensioni Da quello che ho potuto leggere Per ora Soncharted 4 Sembra che sia ben meritato Best art direction A Inside Sono davvero Molto contento Anche qua Nonostante In competizione Fosse con Abzu A cui avrei dato il premio Rispetto ad Inside Perché mi aveva colpito Molto di più Da livello artistico Di quanto non abbia fatto Inside Però sono molto contento Perché va a premiere Nuovamente un gioco Che è molto apprezzato E che secondo me Andava premiato Soprattutto per essere Un gioco indipendente Ecco Best music Sound design Va a Doom Ed effettivamente Devo dire che La colonna sonora Di Doom È molto azzeccata Per quanto riguarda La tipologia di gioco E quindi Molto soddisfatto Non mi ricordo Quali erano Gli altri In competizione Battlefield 1 Inside Reds Infinity Chumper Anche Inside Aveva una Bella colonna sonora Effettivamente Ma forse Doom È quella più Accattivante Ecco Più Puntuale Sul Sul gioco Ecco Best performance Nolan North Nel doppiaggio Di Nathan Drake In Uncharted 4 Non ho giocato Uncharted 4 Probabilmente Se lo giocherò Sarà doppiato In italiano Quindi mi perderò Questo doppiaggio Mirabolante Di Nolan North Niente Sono contento Per lui E sul palco È stato molto Entusiasta E Niente Va a premiare Di nuovo Un gioco Come Uncharted 4 Che sembra Sia stato davvero Un gioco Molto importante Per il 2016 A questo punto Games for impact Lo vince That dragon cancer Nonostante non fosse Quello che mi esaltava Di più Della lista Più che altro Non per L'impatto Che è molto forte Ma per alcune scelte Di gameplay Mi ha colpito Davvero molto Il creatore Del gioco Che è salito Sul palco Aveva davvero Qualsiasi cosa Dentro di sé Rotta dall'emozione Piangeva Non riusciva A tirar fuori Il discorso Che aveva Probabilmente Scritto sul cellulare È stata una scena Davvero Abbastanza commovente E in più Ha ricordato In questa situazione Ancora Il fatto che La storia Alla base Di vet dragon cancer È una storia vera È la storia Di lui e sua moglie Che hanno perso Un figlio piccolo Per cancro E credo che questo Sia effettivamente Quello Che probabilmente La giuria cercava In quello Che è la definizione Games for impact Best action game Va a doom E secondo me Ci sta alla grande Perché più action Di doom Non so cosa Possa esserci Old but gold È stato davvero Un reboot Favoloso Del franchise Best action Adventure game Va a Dishonored 2 E Devo dire Che anche qua Nonostante Fossi Anche convinto Da Ratchet and Clank C'erano E Hyper light drifter Se non sbaglio Esatto Alla fin fine È andato su Dishonored 2 Che ovviamente Non ho avuto modo Di provare Visto che appunto È recentissimo Però Può starci Può starci Best role playing game Va Nuovamente A furor di popolo A The Witcher 3 Wild Hunt Per l'espansione Blood and Wine Che Nonostante Il titolo principale Si è uscito L'anno scorso Quindi abbia già vinto Il best role playing game E il best game E il game of the year L'anno scorso E un sacco di altre storie L'anno scorso Per la sua espansione Riesce a vincere Nuovamente Per il secondo anno di fila Il best role playing game E ne sono entusiasta Perché è davvero Un titolo Che apprezzo molto E Apprezzo molto Anche la casa produttrice Che ci sta dietro E Tutto il mondo Creato da Dallo scrittore Andrei Sapkowowski Non so pronunciare Quel cognome Però lo scrittore Della saga Di The Witcher Best fighting game Street fighter 5 E ci sta tutta la vita Sono molto contento Avrei votato Probabilmente Anch'io per Street fighter 5 Che Forse era appunto Davvero la miglior scelta Tra quelle che erano in campo Best strategy game Civilization 6 Ma Ai 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 Io in realtà Forse mi sarei lanciato Più su un The Banner Saga 2 Per Miglior gioco di strategia Più che altro Per l'innovazione Civilization 6 Ok Innovato un po' Ma alla fin fine È sempre Civilization The Banner Saga È qualcosa di Più potente Più nuovo Più Fresco Best family game Pokemon Go E devo dire che ci sta Torno sul discorso del Finalmente la Nintendo Inizia a capire che Famiglia e console portatili Ora vuol dire Sempre di più Mobile E quindi Viva che venga premiata Questa iniziativa Da parte di Nintendo Best sports Racing game Ha messo insieme I racing e i sports Perché appunto Consideravano insieme Unite le due Categorie Lo vince Forza Horizon 3 Nonostante io Avessi Più l'impressione Che sarebbe andato a vincerlo L'NBA 2017 O FIFA 17 Vince Forza Horizon 3 Che di sicuro Sarà un ottimo gioco Non ho Avuto la possibilità Di provarlo Ma ho avuto la possibilità Di vederlo E promette tantissimo Quindi Consiglierei a tutti Di provarlo Anche se non ho Ancora avuto esperienza Di prima persona Best multiplayer Di nuovo lo vince Overwatch E qua Tra l'altro Non hanno Fatto tutta la discussione In diretta Sarei curioso Di vedere Quali altri multiplayer C'erano Battlefield 1 Gears of War 4 Overcooked Titanfall 2 E Rainbow Six Sige Vabbè Rainbow Six Non mi dice molto Sinceramente Però Cribbio Overcooked È tipo Favoloso Per il multiplayer Cioè È qualcosa di fresco Frizzante Originale Con delle Meccaniche di gioco Nuove E vanno a Premiare Overwatch Anche qui In best multiplayer Non sono per niente D'accordo Non voglio sfogare Tutto questo Discorso Continuamente Ma non sono D'accordo Overcooked Tutta la vita Most anticipated game The Legend of Zelda Breath of the Wild E secondo me Ci sta tutto Hanno fatto vedere Tra l'altro In anteprima mondiale Uno spezzone Di Quello che sarà The Legend of Zelda Breath of the Wild Hanno fatto vedere Uno spezzone Un spezzone davvero Di gameplay Di una parte Del gioco Che non era mai Stata affrontata Di una parte Di quest Con dei combattimenti Principalmente Un paio di Abilità particolari Di Link E davvero promette Molto 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 Spero di Vederlo Non lo giocherò Mai Perché come sapete Non gioco su console Quindi non lo giocherò Mai Però spero di Vederlo Magari qualche Gameplay Qualcuno che lo gioca Qualche amico Che ce l'ha E farmene un'idea Di quanto Effettivamente La saga di The Legend of Zelda Continui a Appassionare gente A sfornare Titoli di successo Gli altri Most anticipated Game erano God of War Horizon Zero Dawn Mass Effect Andromeda E Red Dead Redemption E devo dire Che Sono Tutti I titoloni God of War Non lo so Non mi ha ancora Acchiappato per bene Però Horizon Zero Dawn Di cui tra l'altro Hanno fatto vedere Un altro Pezzo In anteprima mondiale Durante Lo show Mass Effect Andromeda Di cui mi ha fatto vedere Un Pezzo Favoloso Che mi ha fatto cambiare idea Da così a così All'inizio non ero per niente Interessato Mass Effect Ma Guardatevi quel trailer Che hanno fatto Vedere Perché davvero Wow Red Dead Redemption 2 Sembra tanta roba Sembra tanta roba Era una grande sfida Sì Era una grande sfida E Poi Eravamo arrivati Best multiplayer Appunto No Most anticipated game Esports player of the year Hanno premiato Marcello Cold Zero Cold Zero David Un brasiliano Che ha fatto il discorso In brasiliano Che è stato tradotto Solo parzialmente E non del tutto E non del tutto in modo corretto Per la SK Gaming Che è un giocatore di Counter Strike Global Offensive Non conoscevo nessuno di questi esports player Quindi Street Fighter 5 Beh effettivamente Forse Overwatch Qua questa Lo doveva vincere Sì Ok Siamo onesti Questo andava A Overwatch Overwatch Best in sports Sì Perché Dota 2 League of Legends Ormai Hanno fatto il loro corso CSGO Anche abbastanza Street Fighter 5 E Non lo so L'ho trovato meno Prepotente quest'anno Sul Punto di vista degli esports E' un grande esport Anche quello Ma non quanto Overwatch Overwatch Da quel punto di vista Davvero Fenomenale Però ecco Best in sports Questo è l'unico premio Che avrei assegnato A A Overwatch E Trending Gamer Un tale Boogie 2988 Che sembra che sia Uno youtuber Americano appunto Super extra size Cioè Prendete tipo Un ciccio gamer 89 Raddoppiatelo Aggiungete ancora Mezzo ciccio gamer 89 E ottenete praticamente Questo boogie 2988 Cioè E' tipo Avete presente Violetta Boregar Quella nella fabbrica Di cioccolato Quando mangia La Il Chewing gum Che la fa diventare Come un mirtillo E Sembrava così Ma Sembra che sia Per un discorso Sanitario Credo Credo che abbia Qualche malattia Perché Diceva Sono contento Che la mia vita Sarebbe stata un inferno Perché non posso fare niente Conciato così E invece Fa Gioco E Guadagno Giocando Quindi Suppongo Che sia Una questione Non dipendente Da lui Una questione Legata A un problema Clinico E non Un problema Di cattiva Alimentazione Suppongo Suppongo Perché non conosco Davvero Questo Youtuber O twitter No credo Sia Youtuber Comunque Non vorrei sbilanciarmi Boogie 2988 Best fan creation Enderal The shards of order E secondo me Questo Boom Il più meritato Di tutti E Industry Icon Award La persona Con cui Hanno iniziato Lo show Hideo Kojima Che era La presente E Da Iniziato Praticamente Lui Lo show Hanno Praticamente Detto Ehi Eccoci qua A The Game Awards Siamo qui Con Hideo Kojima Complimenti Hideo Kojima Hai vinto il premio Ed è stato favoloso Ha Mostrato Tra l'altro In anteprima Mondiale Assoluta Un Trailer Di Un gioco In produzione Da Sony E Lo studio Di Hideo Kojima Che si chiama Hideo Kojima Productions E Devo dire Che è stato Totalmente Nel suo stile E Un sacco Angosciante Andatevi a cercare Davvero questo trailer Perché Dice tutto e niente Dice tutto e niente Ti lascia un sacco di hype Per una cosa Di cui non sai nulla Probabilmente Non sarà il mio stile Di gioco Perché ha un'atmosfera Molto coupé Angosciosa E Non è il tipo Di giochi Che mi interessa Di solito Però è stato Molto 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 Di impatto Detto questo Si è fatto Tardissimo È venuto Un video Forse anche Troppo lungo Volevo dirvi Un attimo La mia A caldo Su quello Che è successo Nei Game Awards Vorrei sentire la vostra Nei commenti Qui sotto Per Vedere cosa ne pensate Se eravate d'accordo Su questi Premi Su queste votazioni Se siete con me Nel dire Overwatch Basta Dando premi A caso Per questo gioco E Niente Vi invito a lasciare un mi piace Iscrivervi se per caso Non lo avete già fatto Ci vediamo nel prossimo episodio Ciao a tutti E buona giornata E io vado a dormire Buonanotte 5.40 Chi me l'ha fatto fare